Ciao a tutti, io sono Nganana e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a dare appunto un piccolo trucchetto che possiamo utilizzare appunto su iPhone X, XS e XS Max perché vi tirate solo su questo iPhone o perché riguarda appunto il Face ID Face ID che essenzialmente fino a poco tempo fa si poteva utilizzare soltanto con uno sblocco facciale quindi solo una persona poteva essere registrata, un solo viso invece da poco, c'è da poco, comunque da qualche giorno a mezzo, forse già da mezzo non ricordo bene quando comunque è possibile appunto configurare appunto un aspetto alternativo appunto ora vi faccio vedere esattamente cos'è che intendo tramite questa configurazione di aspetto alternativo possiamo andare in realtà a configurare praticamente due persone diciamo quindi ovviamente appunto il proprietario appunto più un'altra persona quindi in realtà diciamo l'opzione appunto è fatta per configurare magari un aspetto alternativo della stessa persona se è mai appunto un cappello, degli occhiali, qualcosa appunto che va per qualche motivo a ostacolare appunto il riconoscimento appunto della persona appunto e registrando quell'aspetto alternativo dovrebbe appunto riconoscere la persona appunto anche in quella condizione però tramite appunto questo trucchetto, che non è un trucchetto cioè tramite questo consiglio appunto posso dirvi che è possibile appunto in realtà registrare appunto anche un secondo volto di una persona completamente diversa e posso dirvi che funziona perché l'ho provato appunto anche personalmente l'unica cosa da considerare è perché quando andiamo appunto a eliminare appunto cioè se volessimo andare appunto a eliminare una delle due registrazioni appunto facciali appunto in realtà si vanno appunto a eliminare appunto entrambi perché vengono considerati appunto come un unico blocco non è come per esempio per il Touch ID appunto che è possibile registrare più impronte e poi andare a eliminarne una più stessa che un'altra forse con il nuovo Face ID 3.0, il nuovo iPhone sarà possibile anche registrare più botti appunto di persone diverse in maniera nativa andando appunto proprio a nominare appunto quella singola registrazione appunto questo poi si vedrà comunque passiamo appunto a questa brevissima guida così potete appunto anche registrare, sapete appunto come registrare due volti di persone appunto diverse magari può essere un'amica, una compagna, una moglie, una fidanzata, una figlia, quello che volete come diceva appunto basta andare nell'app impostazione appunto perché è Face ID e codice dopodiché appunto qua io in realtà ho già fatto appunto ho già configurato l'altro viso quindi andando appunto a fare inizialità Face ID in realtà praticamente si vanno a perdere appunto entrambi se io clicco su configura Face ID faccio vedere che essenzialmente appunto dopo che vado appunto a registrare il mio volto lo faremo in diretta anche se è una cosa un po' imbarazzante perché diciamo vedete me che giri il volto ma purtroppo la procedura è questa anche se in realtà è fatto veramente molto veloce più veloce rispetto a quando penso sia uscito iPhone X o comunque sia disponibile Face ID come vedete appunto c'è la voce configurare un aspetto alternativo se clicco qua praticamente potrò appunto andare a diciamo a registrare appunto sia il mio stesso volto magari con qualche caratteristica diversa rispetto appunto a quella solita registrata appunto precedentemente ma anche appunto di un'altra persona appunto non lo vado a fare ora perché posso considerare appunto che effettivamente appunto funziona però appunto dico cliccando su configura un aspetto alternativo potete appunto anche compilare appunto il volto di una persona cioè di un'altra persona per chiedendo appunto invece il Face ID due cose che vi consiglio appunto di attivare appunto sono questo qua richiedi di guardare questo Face ID e rilevamento dell'autoguardo cosa vuol dire? nel primo caso appunto dice appunto che la fotocamera offre un ulteriore livello di sicurezza verificando che tu stia effettivamente volgendo l'autoguardo verso iPhone prima di sbloccarlo cioè in pratica se appunto dovete usare Face ID e c'è questa funzione attiva se voi appunto avete gli occhi in realtà rivolti verso un'altra parte ma comunque il vostro viso è diciamo di fronte all'iPhone il vostro iPhone non si sbloccherà come misura appunto di sicurezza se invece voi effettivamente state guardando là c'è la fotocamera insomma il sensore allora lì sì che si sbloccherà l'altra cosa che invece riguarda diciamo appunto la fotocamera è è in grado di verificare quando rivolge l'attenzione verso lo schermo prima di oscurarlo di abbassare il volume degli avvisi appunto cioè essenzialmente interagisce appunto c'è questa interazione tra il nostro sguardo e poi effettivamente appunto lo schermo e gli avvisi appunto del nostro iPhone tutto questo ragazzi appunto al comparto diciamo di fotocamera TrueDepth è tutto appunto il sensore tutti appunto i sensori appunto che si trovano esattamente in questa tacca in questa dannata tacca appunto che in realtà però come potete vedere appunto in realtà si divere appunto abbastanza utile quindi ragazzi vi ringrazio di questo video vi invito a lasciare un mi piace appunto un commento seguitemi su Instagram il tuo video si chiama GanaY.2 cioè YouTube se volete appunto altre video su qualcosa domande cose fatemelo appunto nei commenti io sarò lieto appunto rispondervi vi ringrazio per questo video ci vediamo sempre qui sul canale di Gana un saluto un saluto un saluto un saluto